Erano due partite che segnavano anche alcuni ritorni, tra cui il tuo in nazionale, quindi ti chiedo intanto che effetto ti ha rifatto rimetterti addosso alla maglia azzurra e poi come ti sei trovata in mezzo al campo e sono state due partite comunque in cui soprattutto poi dal secondo tempo della prima si è sciolto un po' il ghiaccio e è andata sempre meglio. Sapevamo che sarebbero state due partite da vincere quindi siamo partite probabilmente un po' troppo contratte, abbiamo ricevuto tante informazioni durante la settimana con il nuovo allenatore abbiamo cercato di assimilare il più possibile il suo sistema di gioco che sicuramente in futuro darà i suoi frutti, vuole un gioco veloce, abbiamo cercato di metterlo in pratica non sempre nel migliore dei modi ma credo che pian piano sarà sempre meglio L'hanno dimostrato i secondi tempi delle partite, tutte le ragazze hanno giocato, le giovani hanno brillato e credo che l'Italia debba puntare su di loro soprattutto. Per me è stato un ritorno, è stato molto emozionante e soprattutto durante l'inno mi sono resa conto di essere tornata e avevo voglia, avevo voglia di tornare, è sempre un onore vestire la maglia azzurra. Adesso si alza il livello dello scontro, aumenta il livello delle avversarie perché il secondo turno ci metterà di fronte a squadre provenienti dagli europei, a squadre di prima fascia ma necessariamente se si passa da lì bisogna passare da lì per pensare di poter migliorare. Credo che abbiamo tutte voglia di confrontarci con squadre più forti per vedere veramente se siamo sulla strada giusta e credo comunque lo sia, saranno a prescindere dal sorteggio due partite molto complicate ma ci alleniamo tutti i giorni per questo, per giocare con le squadre più forti d'Europa e magari sperando in un po' di fortuna riusciremo a dare il meglio.